Ciao a tutti, questo è Rufus da Spota Home Milano. Oggi sto qui, a Via Pergolesi, sul primo luogo di questo bambino per mostrare un studio piccolo e coso. È un studio meraviglioso. È piccolo, ma puoi trovare in questo studio. Puoi trovare tutto ciò che bisogna. Quindi proviamo a vedere. Vediamo, siamo dentro questa pianta. In questa pianta. Qui siamo. Iniziamo dal studio da questa pianta. Iniziamo in questa pianta. Qui a la destra abbiamo il bambino. Ma possiamo vedere. Qui è il studio. Alla che bisogna è l'aria per te. È non troppo piccolo. È coso. È molto comforato. C'è un soffa. È un molto buon soffa. Un doppio bambino. Qui c'è la stagione. Qua dimensione è che qui va abbiamo? Qui c'è il buonllo. Questa acqua. Qui c'è il bambino. Qui c'è il bambino che ha il forthone 20 anni. Qui vedono le państwa inizio dinamica. Non la strada, non la strada, non la scuola. Noi noi, non lo so. Noi noi. Wonderful! You are in the center of Milan. We are very very close to the central station of Milan. The main station of Milan. The place where you can find all the buses and the trains that go to Malpensa Airport, Linate Airport and Orio Alserio Bergamo Milano Airport. So, come back to our studio. A sofa, a television. So, look how far it is. It's very wide, there is a space. It's not the typical little studio where you can't work. So, look, I can work. I can walk around. I can go here, go there. So, it's not little. But you have all. You have all you need here. And this. A very very little room where you can store all you need. Include your clothes if you want. Here you can put your clothes like a wardrobe. And here you can store things you need to clean, to live, to stay alive inside this studio. But it's very wonderful. So, I want to show you the bathroom. A clothes? Little? No. A big bathroom. We are in a studio. Not on five bedroom. One only room. It's a studio and this bathroom. Right. Very good shower. Look. Dry thing. Yes. All you need is here. The washing machine there. All you need is here. So. I'm very very proud to show you this studio. Because it's a very wide and big studio. I'm so very happy to show it to you. And thanks very much for all. From Rufus. From Sport Home Milano. Ciao ciao.